Inizia la battaglia degli Stati Uniti contro Binance perché pochi minuti fa è uscita la notizia che forse l'exchange più grande al mondo viene perseguito dagli Stati Uniti per possibile money laundering e altre violazioni di questo tipo. Che gli Stati Uniti non fossero proprio friendly nei confronti di Binance già si sapeva da un po' di tempo ma sicuramente quello che è stato l'evento di FTX e il tweet di CZ ha innescato forse una spirale di reazione. Io direi che un pochettino ragazzi questa cosa è da mettere in conto ho appena pubblicato un tweet sul mio canale Twitter ragazzi seguitelo oggi praticamente commenteremo quasi tutti i miei tweet perché è quello che è uscito che andremo a vedere in quanto ho pubblicato lì delle news di cui dovremmo parlare proprio oggi. Ma in questo tweet ho definito la questione di ripercussioni verso Binance per l'evento Tweet Against the Machine è un gioco di parole riprendendo una popolarissima super band di fine anni 90, Rage Against the Machine. Quindi tweet against the machine, la attività di CZ che inizia a twittare, fa crashare FTX, manda in Bankrun questo exchange sostenuto molto dalla politica degli Stati Uniti. A distanza di un mese più o meno da quell'evento arriva comunque anche questa notizia che comunque va presa assolutamente in considerazione ragazzi perché chiaramente io ci vedo un po' di ripercussioni, è una mia opinione questa ovviamente. Qual è la vostra? Cosa ne pensate voi su questo evento qui? Sembra un po' tutto incastrato come un mattoncino Lego uno sopra un altro e sembra essere un atteggiamento un po' di ok tu diciamo hai fatto una cosa che non ci è piaciuta che ovviamente anche se fosse nel mercato classico sarebbe illegale. Nel mercato cripto non ci sono le regolamentazioni perciò si può lasciar passare ma altrimenti la SEC avrebbe fatto un macello per quel tweet lì. Però adesso diciamo ti facciamo vedere noi la questione anche perché comunque già da un po' questa questione di Binance del money laundering e gli Stati Uniti insomma era da un po' che hanno questo atteggiamento nei confronti dello stesso Binance. Vabbè allora lotta interna ma soprattutto cambia qualcosa a livello delle quotazioni perché Bitcoin un pochettino sta perdendo terreno sta rallentando in realtà assolutamente no perché vi faccio vedere che sostanzialmente nelle ultime settimane non è cambiato niente vediamo un po' di fare il punto della situazione alla fine del video anche su questa questione ciclica. Ma prima di andare avanti ragazzi volevo anche farvi vedere un altro tweet cioè quelle che sono le notizie che questa settimana sono fondamentali anche il motivo per il quale comunque le oscillazioni di mercato degli ultimi giorni sono stati sostanzialmente solo rumore. Non c'è movimento perché andiamo sempre sul mio Twitter questa mattina ho pubblicato tutti quelli che sono i dati fondamentali della settimana che sono rilevantissimi perché avremo l'indice dei prezzi al consumo che viene pubblicato variazione sia annuale che mensile. Quindi in pratica ragazzi il tasso di inflazione al consumo che è quello diciamo che sta combattendo la Fed da qualche mese e poi questo avverrà nella giornata di domani quindi domani alle 2.30 ci sarà da muoversi. Io giorno ero con ovviamente i soliti tweet sul canale Twitter e anche dei vocali che ho risato a fare ragazzi con dei commenti vocal quindi degli audio stile podcast che sto inserendo nel mio canale Telegram sempre gratuito vi lascio il link in descrizione aggiungetevi anche lì così vediamo un po' di fare dei micro commenti proprio quando escono questi dati senza andare a fare video YouTube che diventa poi ingestibile. Quindi domani indice dei prezzi al consumo è fondamentale dopodiché abbiamo il mercoledì con le scorte di petrolio che abbiamo capito come sono importanti ma poi soprattutto la decisione sul tasso di interesse della Fed su questo argomento adesso vi faccio vedere quali sono le attese del rialzo dei tassi se c'è stata qualche modifica o meno dopo i dati sull'indice dei prezzi alla produzione che era salito un po' più delle attese nella scorsa settimana. Il 15 e si prosegue con la decisione del tasso della Federal Reserve la richiesta dei sussidi di disoccupazione alle 2.30 sempre il 15 poi la conferenza dell'ABC che non se la fila praticamente nessuno e poi il 16 il tasso di inflazione annuale di novembre dell'Europa ragazzi. Allora tutti questi dati save the date perché saranno i market movers di questa settimana si inizia da domani se dovessi essere sincero ritengo che i dati più importanti saranno quelli di domani perché in realtà sono proprio il tasso di accelerazione di novembre è quello annuale dell'inflazione che muoveranno i mercati perché poi le decisioni sul tasso sono un po' scontate adesso vi faccio vedere che significa anche quelle dell'ABC sono un po' scontate la richiesta di disoccupazione relativamente al fatto che i mercati si aspettano che la disoccupazione ancora non si sta muovendo quindi è tutto rosa e fiori in questo momento quindi se dovessero peggiorare sarebbe un dato positivo se migliorare l'avete un po' impossibile visto il taglio dei tassi quindi sostanzialmente c'è poco movimento poco margine e anche l'IPC dell'Europa ha un effetto comunque non particolarmente importante sui mercati in questa fase in quanto l'ABC si è mossa in ritardo rispetto alla Federal Reserve per cui i mercati si aspettano che il tasso di infrazione europeo segua comunque l'iter di quello che stiamo già vedendo sul tasso di infrazione degli Stati Uniti ciò significa che se scende quello entro x mesi scenderà anche il nostro quello europeo perciò ha una valenza tanto e non quanto diciamo che le due cose sono correlate la cosa più importante quindi giornata più importante domani dalle ore 2.30 perché se il tasso di infrazione sarà inferiore a quello che è il previsto allora probabilmente i mercati inizieranno ad accelerare al rialzo vi faccio vedere anche il tasso atteso ragazzi eccolo qui domani quindi questa zona qui ci sono mille e mille mille dati sempre ogni volta ma noi vi facciamo una cenita di quello che serve allora l'IPC annuale che scende dovrebbe scendere al 7.3% quindi se sarà più basso di questo i mercati probabilmente la prenderanno molto bene e poi il mensile non sottovalutatelo perché è molto importante anche questo se dovesse essere più basso dello 0.3% i mercati la prenderanno bene viceversa se l'inflazione dovesse essere più alta i mercati probabilmente reagiranno male dal dato dell'indice dei prezzi della produzione della scorsa settimana potremmo attenderci che l'IPC mensile sia in linea con le attese e che invece l'IPC annuale sia leggermente più basso o uguale alle attese perciò non ho tanti sconvolgimenti in termini di mercato vediamo un po' quello che succede i mercati sono in bilico ma hanno anche abbiamo anche dei dati degli istituzionali che implica che nonostante il dato della scorsa settimana dell'IPC dell'IPP scusate sia stato superiore leggermente alle attese il consenso per il rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve resta a 0.5% questo è anche molto importante ragazzi perché se nella prossima riunione il che avverrà a quel punto il 14 di dicembre le decisioni sul tasto da parte di Powell dovessero essere diverse da queste cioè dovesse la Fed alzare i tassi ancora di 0.75% i mercati la prenderanno male perché in questo momento l'attuale fase dei mercati sconta un rialzo dei tassi di interesse dello 0.5% quindi una diminuzione della politica restrittiva che è molto significativa se questa avviene e segue quello che è l'iter naturale i mercati lavoreranno in pratica per contenuti propri quindi senza andare a essere scioccati si dice appunto così dal mercato da eventi esogene perciò probabilmente continueranno l'iter naturale del trend di breve periodo che stanno avendo quindi laterale leggermente rialzista questo qui è quello attuale se invece la Fed dovesse scioccare poi con il rialzo dei tassi maggiore si va giù di nuovo però secondo me non lo farà ragazzi anche così gli istituzionali stanno valutando questo quindi questi sono dunque le stime però resta ancora accettabilmente alta del 25% anche una probabilità di rialzo di 0.75% quindi secondo me però domani che avremo la questione legata all'IPC sarà molto significativo quindi domani allacciate le cinture e tenetevi pronti perché sarà una giornata epica e magari la seguiamo come vi dicevo sul mio Telegram se vedo cose strane io vi pubblico lì qualcosina qualche audio detto questo passiamo a un altro post che vi ho pubblicato e andiamo all'analisi dei grafici intanto questo è un post importantissimo che ho pubblicato questa mattina ragazzi e volevo farvi proprio, volevo discutere su questo tweet che ho fatto questa mattina ragazzi cioè il concetto che rispetto ai mercati orso del precedente fase di bitcoin cioè il 2018 in questo caso il mercato delle cripto è sostanzialmente modificato cioè stiamo andando verso un mercato che è diventato un mercato istituzionale più che retail perché questa linea che vedete qui in verdino è la diminuizione dell'impatto dei retail sul mercato delle criptovalute in pratica i retail sono crollati dall'80% del mercato orso del 2018 l'ultimo mercato all'attuale 16% del 2022 allora considerate che qui era il Q1 del 2018 quindi l'inizio del mercato orso in pratica poi qui è finito diciamo a cavallo diciamo questo era settembre-marzo quindi qui in questa zona sarà finito il mercato orso quindi intorno più o meno al 50-60% di importanza ciò significa che i volumi di trading, i volumi di scambio attuali del mercato delle cripto sono fatti ragazzi per l'84% da istituzionali è quello che vi sto dicendo da due anni sono usciti i dati adesso che lo evidenziano in maniera definitiva e da quando? Nel 2021 vi sto dicendo che l'anno 2021 e l'anno 2022 sono anni per trader e non per buy and holder perché semplicemente il mercato è diventato istituzionale e gli istituzionali non seguono le ragioni di pump and up cioè non ragionano in questo modo ciò significa che il mercato è diventato più complesso più efficiente se vogliamo dare il giusto significato ed è un mercato che deve essere tradato con quello che sono i dati e le strategie istituzionali non più strategie prese a casaccio di quelle sull'inefficienza che appunto sono banali e basilari quindi il mercato diventa più complesso ragazzi questa è la natura dei mercati se qualcuno di voi mi segue da immemore tempo dal 2018 sa che già da allora dicevo che questo percorso naturale che anche i mercati cripto avrebbero fatto sarebbe stato normale perché tutti i mercati fanno questo iniziano in maniera estremamente inefficiente poi diventano molto più efficienti e quindi anche le strategie di trading o di investing devono modificarsi con il corso del tempo ragionate su queste cose perché è fondamentale comprendere come ci stiamo avvicinando appunto a un mercato più istituzionale quindi più dettato da analisi e da statistiche di natura quantitativa e non da momentum emotivo standard è anche il motivo per il quale Bitcoin nell'ultima fase ha perso molto terreno anche rispetto alle criptovalute in generale perché non c'è un appeal di natura emotiva e visto che comunque la adoption di Bitcoin è ancora molto lenta rispetto a quello che magari si pensava qualche annetto fa e insomma Bitcoin stesso diciamo ne ha risentito e quindi è stato un po' alleggerito fermo restando che se dovessimo finire qui il bear market di questa fase a intorno ai 16.000 tutto sommato ragazzi insomma non è bello non è un ottimo bear market però sicuramente ce ne faremo una ragione perché in ogni caso l'ultimo è finito a 3.600 quindi ci può stare che finiamo a 16.000 insomma è un successo non un successo da brindare perché diciamo veniamo da un massimo storico di gran lunga superiore però sicuramente non è un disastro allora questa è la fase ed è questa struttura ragazzi probabilmente continuerà fermo restando che in una nuova possibile bull run magari i retail potrebbero riavvicinarsi al mercato al momento il mercato cripto e il trading nel mercato cripto sembra spostarsi molto verso gli istituzionali anche per questo tantissime strategie come vi dicevo hanno perso aderenza anche alcune cose che stavo monitorando io per esempio abbiamo un bot che da due anni non funziona più ragazzi in academy proprio per questo motivo qui ed era una cosa di cui avevo già parlato in academy lo tengo sempre attivo non lo sto usando più personalmente praticamente non lo usa quasi nessuno però lo tengo attivo perché lo tengo come un indicatore che se dovesse riprendersi magari e ritornare a funzionare potrebbe significare che i retail hanno rimesso mano magari a questo mercato è una cosa mia insomma lo uso da quel punto di vista va bene allora detto questo passiamo invece all'analisi di quelle che sono le ciclicità perché c'è un'anomalia che va a impattare con una scadenza ciclica rilevantissima che è quella proprio di domani dopo domani ovviamente anche i cicli si adattano a quelle che sono le uscite del mercato e sono fondamentali da andare a controllare iniziamo proprio da Bitcoin poi vi faccio vedere come sempre Nasdaq e analizziamo anche se c'è tempo analizziamo anche Ethereum allora vi faccio capire una cosa ragazzi qui sulla situazione di Bitcoin abbiamo ancora un'ambivalenza sul ciclo mensile cioè non è detto che il ciclo mensile di Bitcoin sia iniziato con certezza il 21 di novembre ma potrebbe essere ancora il precedente ciclo mensile che ha inizio il 9 di novembre che ancora non ha chiuso questo però ci porterebbe all'idea vedete questa allora vi cancello questo giù e vi faccio vedere quindi saremmo ancora ad oggi a 33 giorni dal 9 di novembre nulla vieta che il mercato faccia anche 35-37 giorni e vado a chiudere proprio venerdì in questa settimana con una struttura di ribasso in questo caso il rally eventuale di Natale che sia questo minuscolo rimbalzo in pratica perché non è riuscito ancora a breccare il 17.500 finisce qui quindi rally eventuale possibile per questi ultimi 10 giorni solo ed esclusivamente su dati positivi dell'inflazione domani e breakout dei 17.500 per quanto riguarda Bitcoin se non avviene questo il rally di Natale è finito qui non c'è storia che poi non è stato neanche un grande rally perché ha fatto in pratica solo una prima fase vedete da qui a qui l'8-10% quindi una mazzecola per Bitcoin se invece brecca il 17.500 potrebbe tranquillamente avvicinarsi magari in zona 18-18 e qualcosa e allora magari un 20%-17% era un rally più accettabile insomma che poi nei mercati classici una cosa del genere sarebbe praticamente il rally della vita ma nei mercati cripto è poco no vabbè scherzi a parte allora detto questo ancora servirà qualche giorno per avere questa informazione però già da domani credo che avremo le idee chiarissime perché ragazzi per fare una cosa del genere significa che Bitcoin deve crashare praticamente così cioè è insomma un disastro una cosa del genere quindi se optate per un'idea del genere a livello ciclico questi prezzi sono da short totale soprattutto su altcoin deboli nei confronti di Bitcoin quindi teoricamente per chi vuole ragionare da questo punto di vista e fare dei trade che possano scioccare il mercato quindi dire ok io mi gioco lo short cioè significa che i dati domani sono negativi il mercato inizia a crollare succede un disastro allora da quel punto di vista potete fare una cosa del genere ovviamente dovete stare iper attenti perché se il mercato vi rimbalza in faccia con dati migliori a 17.5 vi manda in stop dovete uscire all'istante perché se no vi spara un meno 10 in fronte quindi mi raccomando queste cose solo per trader esperti però come ho insegnato anche diverse volte all'uscita dei dati la posizione ambivalente è possibile da utilizzare per trader esperti cioè fare uno short e un long sulla stessa cripto e vedere un po' quella che va verso il trend giusto mantenere quello e chiudere l'altro ovviamente sono giochi da trader professionali insomma da trader pro e quindi utilizzateli solo se sapete che state facendo quindi non ho consigli finanziari dal mio punto di vista l'ipotesi di un mensile ancora da chiudere la vedo un po' azzartata ragazzi una cosa del genere sinceramente dovrebbe succedere un disastro quindi un tasso di inflazione molto più alto delle attese la Fed che alza di 0,75 e non di 0,50 insomma mi sembra un po' un eccesso da un punto di vista anche di naturale struttura per esempio dei prezzi sembrerebbe proprio che il ciclo vero sia iniziato qui anche perché il vero minimo dei mercati in close è stato fatto il 21 su Bitcoin e non diciamo il 9 lo stesso poi minimo in shadow ma lasciato diciamo che ha un po' meno rilevanza perché è questione di pochi dollari quindi questa ipotesi ce l'abbandoneremo proprio questa settimana dopo l'uscita dei dati se invece siamo nell'ipotesi più accreditata con un ciclo mensile che si sviluppa in questo modo e che probabilmente sarà lunghetto per via di questa fase generale molto lenta dove il mercato in pratica dal 30 di novembre non sta facendo nulla oscilla tra due livelli di prezzo che sono 16.8 e 16.3 e 17.3 scusate e quindi oscilla in maniera lenta se dovesse fare una cosa del genere probabilmente siamo a metà più o meno di questo ciclo si chiudono qui i giochi dopodiché va a fare il magari rally di Natale e poi chiude definitivamente questo ciclo mensile andiamola a vedere questa cosa qui perché c'è ancora spazio in quanto ci sarebbero una ventina di giorni 15 giorni da 15 a 20 giorni insomma ragazzi questa zona qui in cui il mercato può fare ancora nuovi massimi avvicinandosi magari a questo livello di target o a questo qui insomma in alto se le coste si mettono molto bene quindi detto questo al momento una struttura del genere va considerata e vediamo ragazzi perché potrebbe essere la fase vedete a metà di questo ciclo mensile c'è la parte centrale e tutto avviene però nella giornata di domani quindi è tutto legato alla fine vedete i cicli influenzano i dati i dati influenzano i cicli no è la stessa cosa sono la stessa faccia della medaglia ragazzi basta guardarlo da un lato o dall'altro è la stessa faccia della medaglia e quindi questo significa che probabilmente i mercati si adattano a quelli che saranno i dati quindi una struttura ciclica che può avere più enfasi magari in questo caso prenderà i dati in maniera positiva meglio delle attese tutto qui detto questo andiamo velocemente a vedere anche Nasdaq e vediamo un po' che sta combinando appunto di vista di analisi ciclica allora questa fase qui anche su Nasdaq ragazzi porta un'idea generale che questa struttura intanto Nasdaq sicuro dal 13 ottobre è su una nuova fase che probabilmente è un ciclo più o meno trimestrale io qui ho messo una scadenza del doppio mensile perché qui non si vede la naturale scadenza del ciclo mensile di Nasdaq e sembrerebbe proprio che il mercato stia tentando di fare una struttura ternaria quindi un'anomalia è vero che può indicare un mensile anche in questo punto ma mi sembra troppo lungo e poco funzionale quindi è più probabile che il mercato stia tentando di fare dei cicli ternari e sia strutturato più o meno in questo modo qui al momento sembra stia confermando questa view vedete di una struttura in questo modo ora anche il Nasdaq come Bitcoin se conferma una struttura ternaria fatta più o meno così arriverà a un due mesi che sono più o meno di queste di questo numero di barre di circa 55 barre e avrà e può avere l'ultimo spunto al rialzo proprio in questa struttura ciclica che dovrebbe essere iniziata nella giornata del 7 tutto dipenderà dai dati secondo me fino a domani Nasdaq non si muove se i dati domani sono positivi i mercati la prendono bene possiamo avere il candelone di Nasdaq che si posiziona qui dopodiché fa appunto il suo massimo nei giorni di questa settimana e poi si va a chiudere questa fase a dire la verità questo minimo avverrebbe intorno al 3 di gennaio quindi questo significa che qui abbiamo una classica fase rialzista che poi si conclude verso fine anno con una leggera fase di chiusura quindi se questa fase venisse rispettata c'è un po' di spazio che può essere tradato al rialzo io continuo ad essere positivo long sui mercati ancora in questa fase perché secondo me le probabilità sono a favore in questo momento di una possibile break long per tanti motivi non è soltanto il breve periodo c'è anche il long term cioè quelli che sono i dati che abbiamo visto nei video precedenti legati ai cicli di lungo termine alcune criptovalute hanno avuto dei prezzi importanti bitcoin stesso ha subito tantissimo perciò questa è una fase che ho preferito tradare in long attenzione che come sempre vi ripeto già dalla scorsa settimana e anche oggi è uscita un'altra operazione di quelle long che erano entrate settimane or sono tutte in game tranne una trusci che era in loss perché ragazzi questa è una fase in cui io sto facendo trading sulle criptovalute non mi posiziono per il lunghissimo periodo perché secondo me il mercato non può essere più tradato in questa fase con il buy and hold soprattutto non sulle cripto bitcoin ethereum potremmo provarci ma è pericolosissimo è ovvio che preferisco fare dei trade lunghi magari che durino anche sei mesi piuttosto che avere l'idea generale di stare in un mercato in un momento in cui gli istituzionali la fanno da padrona non c'è certezza su quelle che sono le politiche che la la fed farà dobbiamo vedere se c'è un ritorno di fiammata dell'inflazione nel prossimo anno e i cicli non danno delle indicazioni pulite e quindi ragazzi io preferisco limitare i danni perché la prima regola è non perdere come ci insegna il grande Warren e perciò in questa fase andare a buttare tutte le carte le cartucce sui mercati mi sembra eccessivo preferisco utilizzare il trading e quindi a ridurre il mio orizzonte temporale a un ciclo un pochettino più breve in questa fase sono ancora long con la metà delle criptovalute che avevo utilizzato per il trading perché due sono uscite e ne restano tre a dire la verità quindi è più o meno la metà in termini di capitale e poi sono long anche con dei position su bitcoin ed ethereum ma solo relativamente a questa fase se già domani dovessi vedere cose strane uscirò ve lo dico in maniera molto molto semplice però secondo me ancora sui mercati analizzando le probabilità la fase long può essere ancora mandata avanti va bene allora non ce la facciamo a vedere ethereum ma è più o meno la stessa identica cosa se non che ha un grafico leggermente più leggermente diverso perché vedete qui nel centrale non ha fatto il suo minimo anche questo porta una fase difficile nella sua comprensione ma per me si parte da qua insomma nelle fasi di minimo questa andrebbe analizzata vediamo cosa fa ma barra di congestione è uguale a bitcoin magari lo vediamo in settimana in un video dedicato soprattutto perché vorrei analizzare anche la total market cap delle criptovalute perché è molto significativa e anche molto bene va bene per oggi è tutto noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi